polemica sull'incarico ad oliviero toscani il consiglio ha respinto la mozione con la quale l'opposizione chiedeva la revoca dopo le dichiarazioni del fotografo su giorgia meloni il libro protagonista presentata a palazzo del pegaso l'edizione 2022 del foiano book festival buonasera ben ritrovati a monitor consiglio il consiglio regionale della toscana ha respinto una mozione per la revoca dell'incarico affidato dalla regione al fotografo oliviero toscani la mozione era stata presentata da diego petrucci di fratelli d'italia per le affermazioni rilasciate dal fotografo su giorgia meloni e gli elettori dopo il voto del 25 settembre la mozione è stata respinta con i voti contrari dei consiglieri pd e a favore dei gruppi di opposizione e anche di italia viva la regione ha affidato a toscani la realizzazione del contest fotografico la toscana di toscani rivolto alle donne sentiamo le interviste a partire proprio dal consigliere che ha presentato la mozione diego petrucci cosa ho provato quando ho capito che meloni avrebbe vinto veramente non sapevo se era vanna marchio la meloni urla strabuzza gli occhi pitturati di blu mostra le unghie rosse direi che abbastanza volgare gli italiani che l'hanno votata quando la maggioranza è cogliona hai una democrazia cogliona gli italiani che hanno votato giorgia meloni sono deficienti per me queste sono le parole con cui oliviero toscani ha commentato le elezioni politiche del 25 settembre gravi in assoluto gravi a maggior ragione nel momento in cui oliviero toscani oliviero toscani è stato incaricato alla regione toscana di fare una campagna la toscana di toscani all'interno di benvenute in toscana per attrarre il pubblico femminile nella nostra regione evidentemente le due cose stridono evidentemente questa cosa è gravissima per cui oggi come fratelli d'italia abbiamo presentato una mozione in consiglio regionale chiedendo intanto di condannare le gravi esternazioni oliviero toscani e poi di revocargli l'incarico profumatamente pagato per fare questa campagna pubblicitaria anche perché ci chiediamo le donne che toscani vorrebbe attrarre in toscana sono tutte escluso quelle evidentemente che hanno votato giorgia meloni perché se sono come lui ritiene deficienti è evidente che la cosa non sta insieme a noi abbiamo chiesto che il consiglio regionale prendesse una posizione chiara su questo come hanno fatto i benetton quando oliviero toscani si espresse in maniera orribile sul crollo del ponte morandi cosa fece lo licenziarono noi chiediamo che abbiamo chiesto che la regione toscana facesse la stessa cosa ovvero revocasse l'incarico dato oliviero toscani perché è una cosa gravissima quello che ha detto è una cosa ancora più grave perché lo dice contro una donna e contro le donne è una cosa tre volte grave perché il suo messaggio la sua campagna dovrebbe proprio attrarre le donne in toscana in realtà noi ringraziamo come gruppo di fratelli d'italia il voto compatto del centro destra ma ringraziamo anche il movimento 5 stelle italia viva che hanno votato a favore la nostra mozione ci dispiace prendere atto ma veramente non è una dispiacere strumentale ci dispiace prendere atto del voto contrario alla revoca dell'incarico da parte del partito democratico la maggioranza si è spaccata ancora una volta italia viva ha votato in maniera obiettiva il partito democratico difende l'indefendibile arrampicandosi sullo sugli specchi oltretutto il silenzio di tutte le colleghe del pd nel dibattito di oggi ci dispiace ci lascia mareggiati io ho votato a favore perché ritengo che sia indecoroso quello che è stato detto e quindi la regione toscana deve prendere un provvedimento perché il rispetto nei confronti delle persone in primis di una donna deve essere da parte di tutti anche quando e soprattutto quando siamo in carico a livello regionale questo è molto grave quanto è successo c'è un'offesa nei confronti anche dei cittadini che sono degli elettori non possono essere appunto denominati così come sono stati appunto considerati in quella definizione e come tale la mia posizione è stata in coerenza con tutte quelle che abbiamo espresso come consiglio regionale nel prendere le distanze da queste dichiarazioni è un metodo che deve essere lontano dalla cultura dei principi della regione toscana noi abbiamo trovato quell'atto un atto condizionato da un pregiudizio che è quello il pregiudizio nei confronti di oliviero toscani che come tutte le persone di questo mondo ovviamente può esprimere le proprie valutazioni noi tra l'altro a fronte dell'atto abbiamo proposto proprio per come dire sgombrare il campo dal rischio che fosse davvero interpretabile come un pregiudizio a priori nei confronti di toscani di separare le due parti cioè noi eravamo assolutamente disponibili a esprimere ferma condanna rispetto alle dichiarazioni di toscani nei confronti della presidente della presidente meloni ci mancherebbe altro sul tema della revoca dell'incarico ci è sembrato ovviamente appunto un atto strumentale noi eravamo pienamente disponibili questa proposta è stata è stata rifiutata e riteniamo che ovviamente su questi temi si debba sempre cercare di trovare il più ampio consenso e soprattutto la più ampia convergenza noi avevamo dato piena disponibilità finché si arrivasse a questo a questo obiettivo probabilmente dovrebbe da dire un osservatore esterno dovrebbe dire che la finalità magari dell'atto era un'altra e quindi su questo l'indisponibilità di chi ha presentato l'atto è stata totale si indubbiamente una mozione che ho condiviso soprattutto perché il dottor toscani non è estraneo ha delle esternazioni assolutamente pesanti e inopportune questa volta queste sue esternazioni non solo si sono connotate in modo estremamente forte nei confronti della della leader di fratelli d'italia e quindi connotate di un certo sessismo ma ricordiamo anche le affermazioni gravi su quanto accaduto sul ponte morandi ecco noi riteniamo che questa figura non possa essere collegata alla regione toscana né tanto a meno avere avere incarichi retribuiti si parla di 35 mila euro per una campagna che tra l'altro avrebbe dovuto promuovere le figure femminili bentornate in toscana ecco francamente ci sembra alquanto inopportuno non revocare l'incarico alla luce appunto di dichiarazioni che sono assolutamente pesanti e che certamente non sono condivisibili ma che ci aspettavamo fossero stigmatizzate condannate anche dalla maggioranza così non è stato ed è stato invece un pessimo segnale anche di sostegno a tutte quelle donne che si impegnano in politica e che quindi insomma ci richiamano un po' al voler dire pari opportunità a parole ma quando poi si passano i fatti ecco tutto quanto cade nel vuoto. Abbiamo votato a favore di questa mozione perché riteniamo che non ci sia niente di più inaccettabile quando si intende fare la morale o dare l'esempio dei due pesi e delle due misure. Giustamente il partito democratico si indigna quando vengono offese delle esponenti del suo partito o di altri partiti a loro vicini se vengono insultati. Non si capisce perché questo debba essere accettato quando essere insultati o vilipese sono le esponenti donne ma io metto anche uomini di altri partiti politici specialmente se sono rivolti diciamo dall'altra parte dell'arco parlamentare ma chiunque essi siano. Noi riteniamo invece che la difesa dell'immagine della dignità delle persone donne e uomini lo ribadisco debba essere assolutamente trasversale e che la regione debba dare il buon esempio e non utilizzare come testimonio o comunque sia dare degli incarichi a delle persone che legittimamente come personaggi pubblici esprimono la loro opinione che però non può essere condivisa e non ci deve essere accostamento come la regione toscana. Pensiamo soltanto che il messaggio, il progetto per cui Liviero Toscani è stato incaricato sarebbe quello di dare il benvenuto alle donne che visitano la Toscana e il benvenuto viene dato da una persona che però non ha nessun problema invece a insultare un esponente politico e dico questo con una visione completamente diversa da quella che ha l'onorevole Meloni ma riconoscendo a tutte le donne, a tutte le persone, a ogni essere umano la dignità di non essere insultato sull'aspetto personale ma di riuscire a partare lo scontro sul livello politico come a noi viene insegnato. Ecco io credo che la Toscana e soprattutto questa maggioranza da due pesi, due misure debba cominciare a dare il buon esempio anche su questo invece di elargire perle di morale come spesso fa però comportandosi in modo diverso spesso. Per me è semplicemente il segnale di buonsenso dimostrato dal collega Scaramelli di Italia Viva nel votare una mozione che chiedeva un qualcosa, io anzi sono intervenuto in aula per chiedere che venisse proprio tolto il riferimento alle offese che questo signore ha rivolto a Giorgia Meloni perché non è una questione politica di offesa a Giorgia Meloni ma una persona che utilizza il termine ritardato come offesa, siccome ha un grandissimo rispetto per le persone ritardate mentalmente che hanno degli handicap e che secondo me valgono umanamente più di Oliverio Toscani, la regione toscana soltanto per quello avrebbe dovuto revocare l'incarico e quindi credo che il collega Scaramelli abbia dimostrato buon senso nello sposare l'atto, nessuna dietrologia politica. Oliverio Toscani non ci meraviglia più ormai, dopo le sue frasi sul ponte di Genova dove sono stati allucinanti, orribili, orripilanti nei confronti di quella tragedia e delle vittime, dopo aver essere stato denunciato da un ragazzo e quindi condannato dal tribunale di un ragazzo della Calabrese che voleva semplicemente fare una foto con lui e che gli è stato detto no, non faccio una foto con te perché hai la faccia da mafioso, oggi, un po' di tempo fa su un'intervista di un giorno a Pecora continua a offendere i politici italiani, gli elettori italiani, ma soprattutto ad essere un sessista, un maschilista, ad usare toni, modi e paroli nei confronti di una donna, di Giorgia Meloni, che è un leader, che veramente sono orripilanti. La usate nei confronti di Silvio Berlusconi nel tempo e le ha ribadite, la usate nei confronti di Giorgia Meloni, la usate nei confronti di De Ricoletta, la usate nei confronti degli elettori che scelgono di andare a votare in un momento in cui l'affluenza è sempre in calo e noi facciamo uno sforzo dicendo agli elettori andate a votare. Ecco, troviamo un naif che si permette di offendere tutti e tutti andando in televisione. Credo che abbiano fatto bene Benetton nel 2010 e nel 2020 a mandarlo via quando ha usato quelle frasi. Credo che abbia sbagliato il Presidente della Regione Toscana ad affidare un incarico a una persona che usa quei termini, quei modi nei confronti degli elettori e nei confronti della politica. Abbiamo chiesto di revocare quell'incarico che costa 30.000 euro alla Regione Toscana, magari con quei 30.000 euro noi potevamo fare altre cose. Il Partito Democratico ha scelto di tenere, Oliviero Toscani, di dare una consulenza a una persona che si permette di offendere le donne e gli uomini, coloro che fanno politica, coloro che vanno a votare. Noi crediamo che non sia giusto. Cambiamo argomento. Terza edizione per il Foiano Book Festival che si svolgerà a Foiano della Chiana in provincia di Arezzo dal 5 al 19 novembre. Nato nel 2019 da un'idea dell'assessorato alla cultura e patrocinato dalla Regione Toscana, il Festival offre un ricco calendario di presentazioni di libri, incontri con autori, dibattiti, interviste, concerti, spettacoli e mostre. La manifestazione è stata presentata al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Sentiamo. Un piccolo borgo, cultura, libri, un altro binomio perfetto. Qui c'è l'idea di Toscana, investire sui nostri piccoli borgo, investire sulla cultura. Oggi ogni iniziativa che investe in cultura, investe nella lettura, in questo caso, investe sulla libertà. In un tempo complesso come quello che stiamo vivendo, investire sulla libertà è importante. Questo sembra essere un piccolo festival. Iniziato tre anni fa, invece la qualità, come potrete vedere nell'organizzazione, è qualcosa di importante e porta Foiano al centro della Toscana nelle prossime settimane. Consiglio di ringraziare Anna Cherubini per il lavoro importante che porta avanti per questo festival. I nomi alcuni tra i primari nel nostro paese, penso a Pupia Vati, penso a Walter Veltroni, danno il senso anche del valore di questa iniziativa. Per tre settimane Foiano sarà il cuore della cultura della Toscana. Un festival piccolo ma importante. Qual è il rapporto con le case editrici, con gli scrittori? Ormai, arrivata la terza edizione, ci siamo fatti un nostro piccolo nome nell'ambiente ed è molto più facile che in passato interloquire con le case editrici e con le agenzie che rappresentano gli autori. Quest'anno abbiamo avuto molte più proposte da vagliare e devo dire anche che abbiamo avuto meno problemi anche nell'interlocuzione diretta con gli artisti. Penso che oggettivamente il Foiano Book Festival si stia segnalando come una delle manifestazioni più interessanti del settore e quindi ancora una volta andiamo di fronte ai nostri sponsor e ai nostri ascoltatori che vengono da tutta l'Italia e siamo sicuri che la prossima edizione sarà ancora migliore di questa. Siamo solamente, tra virgolette, la terza edizione più dei contenuti estivi che abbiamo fatto visto che andava molto bene questa Kermess e quindi siamo felici perché c'è stato tanto ritorno di pubblico, di gente, anche e soprattutto fuori da Foiano che era un po' anche il nostro obiettivo portare gente nel nostro paese attraverso la cultura. Questo è un festival culturale che è uscito dalla provincia e di questo siamo molto soddisfatti. Gli autori che vengono sono di levatura molto alta e anche questo ci fa molto piacere. Abbiamo un rapporto ormai consolidato con le maggiori case editrici italiane e quindi speriamo e siamo convinti che anche questa terza edizione sia un successo. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.